Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07 Siamo qui in questo nuovo video di MotoGP ragazzi Ho visto praticamente tutto il Gran Premio dal primo all'ultimo giro No bugia, dal terzo perché prima stava beautiful e i miei devono vederlo Nulla ragazzi, allora 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 Parlando bene, veramente sono molto molto contento di questa doppietta Ducati Mi è piaciuta veramente una gara che ti tirava Io se avevo fin dall'inizio, quando vedi i cartellero primo ormai Sappiamo tutti, cartellero e Vignales sono i due piloti più prevedibili dell'intero panorama del motociclismo in questo momento Perché Vignales si sa che perde posizione all'inizio e cartellero si sa che perde posizione in gara E' così, cartellero anche con la Pedronas, secondo me non è un difetto dalla moto ma è un difetto di cartellero Perché ha fatto 20 volte sta gara in passato Che non sa gestire le gomme, perché ragazzi mi dimmi quello che volete Ma perde un secondo al giro, io ora non lo so, può darsi pure che stavolta non sia colpa sua Ma gli capita veramente troppo spesso Troppe volte Cartellero è anche il pilota che è tifo Poi è chiaro, tra cartellero e Bagnaia, preferisco più Bagnaia perché è italiano E vedere un italiano in testa al moto mondiale Un italiano che l'anno scorso ha concluso, se non ero, quattordicesimo il moto mondiale È veramente, veramente una cosa importante Perché Bagnaia, ve lo dico subito, l'anno scorso, forse non quattordicesimo Proprio in mente, allora l'anno scorso Bagnaia Sedicesimo ha concluso il mondiale 2020 Sedicesimo ragazzi Ha fatto secondo in San Marino, poi è stato vittima di tantissimi ritiri Addirittura sei ritiri Tre gran premi non ha partecipato per infortuna, però per il resto Settimo, se andiamo a vedere i risultati in gara ha fatto settimo Secondo, sesto, tredicesimo, undicesimo Comunque di tutto rispetto perché un po' odio a casa l'aveva comunque portato In moto 2 è stato due anni e è riuscito a vincere nel 2018 Questo è il suo terzo anno in MotoGP In moto 3 comunque ha fatto risultare anche qualche bel risultato Qualche po' odio anche in moto 3 Però Bagnaia è veramente un pilota di un talento assurdo ragazzi Io sapevo che Bagnaia era sottoblottato Perché se vedete il video dell'anno scorso lo dicevo sempre Ma non credevo fosse davvero forte fino a questo punto Io credevo sicuramente che ci sarebbe stato Miller davanti a lui Io l'avrei dato veramente prescontato questa cosa Quest'anno veramente una Super Ducati In questo momento sono praticamente tutti lì in lotta Tranne Orge Martin Ma purtroppo ragazzi Orge Martin non ha partecipato a due gran premi per infortuna Non ci si può fare niente Ora magari ci sarebbe stato qualcun altro al posto di Martin Vedremo, però anche Martin ha dato il suo contributo con una pole e una vittoria Bagnaia anche ha fatto una pole position Le altre pole le hanno fatte Carta Raro E nella gara di oggi chi partiva in pole? Sempre Carta Raro, due pole le ha fatte Carta Raro Una Bagnaia e una Martin Comunque Jack Miller ragazzi che è stato secondo me un po' lasciato da parte Ha voluto in generale quello più forte tra lui e Bagnaia E lui Bagnaia semplicemente è quello più costante Quello che ti porta a casa più risultati usando la testa Usando invece la moto diciamo così ragazzi Miller è quello che ti porta a casa più risultati Un po' come succedeva l'anno scorso con Carta Raro e Morbidelli Che Morbidelli portava a casa più risultati Però quello più abile magari con la moto È sempre stato Carta Raro quello più forte sul giro secco eccetera eccetera Anche se pure Morbidelli l'anno scorso due pole le ha fatte O due o tre pole Morbidelli le ha fatte Nulla Carta Raro ragazzi deve cercare di curare questo suo difetto Perché gli capita troppo spesso di fare gare del genere L'anno scorso ha fatto questo tipo di gare veramente troppe troppe volte Che parte in alto e poi cala ok che magari sarà anche un problema della Yamaha Però l'anno scorso ragazzi se andiamo a vedere Carta Raro Ha fatto questo tipo di risultati in Francia Perché partiva dalla pole è definito nono In Catalogna No questa che gara è? Che bandiera è questa? Ah no no non lo so Aragon vabbè Aragon partiva in pole è definito diciottesimo ragazzi Quindi veramente Carta Raro deve cercare di migliorare questa cosa qui L'anno scorso comunque per lui 4 pole e 3 vittorie Quest'anno poteva fare 3 vittorie di fila Non ha gestito bene la gomma e alla fine Vignales gli è arrivato davanti Vignales che ora si porta a meno 14 da Carta Raro E a meno 16 da Bagnaia Miller invece da Bagnaia è a 27 punti Sono tanti eh Però per farvi capire se la prossima gara Bagnaia cade Miller vince di nuovo Miller a meno 2 Per farvi capire Sembrano tanti ma siamo ancora all'inizio del mondiale Ci sono ancora se non erro 15 gare da percorrere Ed è lungo la strada Anche quest'anno sembrerebbe vincere il più costante Perché Bagnaia non ha vinto una gara Però Bagnaia gli ha fatto 3 podi E' l'unico ad aver fatto 3 podi Perché ne ha fatti 2 Carta Raro 2 Zarco E basta Il resto ne hanno fatti tutti 1 praticamente Vignales ne ha fatto 1 La vittoria praticamente Mirra ne ha fatto 1 Mirra che alla fine della fiera ragazzi Può andare bene può andare male Ma comunque nei primi ci finisce Alla fine ha fatto quarto in Catarra Terzo a Portimao e quinto oggi Cioè alla fine in top 5 ci finisce Poi ha fatto settimo A Doha Perché si scontra con Miller Magari perde posizioni lì Però insomma ragazzi Alla fine Mirra E' un pilota veramente costante Che riesce sempre a trarre il massimo Dalla sua moto E anche quest'anno secondo me Vincerà assolutamente il pilota Più costante Che per il momento è Pecco Poi magari potrà essere qualcun altro Per il momento è Pecco 2 punti di vantaggio su Carta Raro Non sono tanti Ma se continuo con questa costanza Secondo me Il risultato di a casa li porterà E potrebbe per lui Lo spero arrivare anche la La prima vittoria nella classe regina Rossi che all'inizio Nei primi due Gran Premi Ma ha fatto anche meglio di Morbidelli Ora si è veramente un po' perso C'è un ritiro E un diciassettesimo posto Un ritiro che comunque Alla fine ragazzi Andiamo a vedere Alla fine di tutto Rossi ha fatto male Solamente qui Perché ragazzi In Qatar È stato davanti a Don Morbidelli Nel Gran Premi del Qatar 2 Si sono invertiti i ruoli Ed è stato Don Morbidelli Davanti a lui Però comunque Rossi Tra i due è stato il più Il più costante magari Nello scorso Gran Premi Si era ritirato Comunque con Morbidelli Che lottava per il podio E lui che lottava per la decima In una posizione Quindi insomma Non è che E questa gara Comunque ha fatto veramente Cagare Sedicesimo Quindi no Anzi diciassettesimo Ragazzi non capisco Veramente come possa Essere calato così tanto Quando lo scorso anno Comunque lottava per il podio Cioè questo magari Bisogna dirlo Bastianini è veramente Un peccato Vederlo ritirato Dopo comunque Ottime prestazioni Rimane dodicesimo Nel mondiale Anche se si fa superare Da un po' di piloti Però insomma Bastianini Stava facendo veramente Un bel lavoro Con la Ducatia Vintia Spero che continuerà così Perché magari Potrà essere il futuro Morbidelli o Bagnaio Comunque abbiamo tanti italiani Ragazzi Che stanno lottando Per posizioni importanti Morbidelli E vabbè Morbidelli e Bagnaio Alla fine sono due Però ragazzi In confronto agli spagnoli Comunque sono due Vignales e Mir E i francesi Che sono Vignales Che sono Cartelaro e Zarco Zarco che è un po' sparito Dai radar Ha fatto un ottavo posto Però comunque rimane In lotta per il mondiale Ricordiamo che la sposta gara Se non si fosse ritirato Zarco sarebbe anche Tra i primi nel mondiale Questo bisogna dirlo Poi le Spargarò Si opprende ancora di più Con l'Aprilia È il settimo nel mondiale Con due sesti posti Un settimo Un decimo Quindi veramente Ottimi ottimi risultati Finora per l'Aprilia Poi vabbè Gli stanno davanti dei mostri Comunque Si sta tenendo dietro Per un momento Morbidelli e Rins Che hanno una moto Gran lunga Migliore della sua Quindi veramente Sta facendo un grandissimo Lavoro Alecce e Spargarò 35 punti per lui Mentre il suo compagno Di squadra Salvadori Ne ha praticamente due Quindi pensate un po' Stava facendo veramente Veramente bene Spargarò Marquez Comunque È la migliore delle onda C'è da dire questo Nono si tiene davanti Si tiene dietro Spargarò E E E il suo fratello Che comunque È caduto E si è tenuto dietro Anche Bradel Se forse Vogliamo mettere il Leond In assoluto Nagagami è arrivato quarto Se non mi sbaglio oggi Si quarto Quindi insomma Alla fine Comunque sto facendo Un buon lavoro Ma se dovesse tornare Quello di un tempo E quindi vincerebbe Magari solo le ultime gare Secondo me Non farebbe comunque In tempo A recuperare il terreno Che ha dietro Perché comunque Bagnaia non si sta dimostrando Troppo Discostante Cioè Qual è il termine Inverso a costante Vabbè Avete capito comunque Quello che sto dicendo Comunque veramente Un super 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 Pecco Bagnaia Primo nel mondiale Ragazzi Secondo me Questo qui Ha del talento Da vendere Nulla Spero che il video Vi sia piaciuto ragazzi Se ti è piaciuto Ti invito a lasciare Mi piace A caso contrario Un dislike Commenti se siete d'accordo O disaccordo con me Se non l'ho ancora fatto Iscriviti al canale In descrizione Il link per seguirmi su Instagram Da manispor07 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi